Si è tenuto presso il ristorante Manubiola la cena di gala in onore dei nostri emigranti. È stata l'occasione per rivedere tante persone, soprattutto dalla Francia, che si sono ritrovate da ogni frazione del comune di Berceto e l'occasione anche da parte del sindaco di poterle salutare e ringraziare ancora una volta. Ringraziare gli americani che attraverso la festa che hanno organizzato a New York, dove abbiamo partecipato come Bercetesi, hanno raccolto 3.500 dollari che hanno offerto al comune di Berceto per l'assistenza agli anziani. Questo ci fa particolarmente piacere perché dimostra un legame ancora vivo tra la nostra comunità di Berceto e quella di New York. E attraverso la festa anche con la comunità dei francesi.